L'anno scorso gli ospiti erano stati Maurizio Alessandro Marinella, titolari dell'omonima e storica azienda di cravate napoletana famosa in tutto il mondo. Quest'anno il My Job Experience dell'Università del Molise ha portato una testimonianza diretta da uno dei colossi mondiali del commercio. Ospite dell'Ateneo è stato infatti il responsabile delle risorse umane di Amazon, Alessio Traini. L'iniziativa è finalizzata ad accompagnare studenti, laureati e laureanti a identificare e sviluppare le proprie competenze, interessi e obiettivi professionali, oltre che favorire nuove opportunità di orientamento al lavoro. Così Traini dai suoi consigli ai giovani. Il consiglio principale che do è di avere le idee ben chiare, quindi crearsi già un percorso mentale per quello che dovrebbe essere il percorso professionale che i ragazzi vogliono intraprendere, in modo tale poi di andare dritti su quella strada. Per me questo ha fatto la differenza, nel senso che durante il percorso di laurea io mi sono appassionato ad una branchia della psicologia, che è la psicologia del lavoro e delle organizzazioni, ho deciso poi di specializzarmi attraverso un master che poi mi ha permesso di entrare nel lavoro, nel settore, nella funzione che io volevo. Quindi questo è il consiglio che do sempre ai ragazzi che si affacciano verso il mondo del lavoro. Con My Job Experience l'università intende anche e soprattutto aprire momenti di riflessione, di crescita e di incontro esclusivi per la comunità studentesca universitaria e delle ultime classi degli istituti scolastici superiori, rafforzando in tal modo la filiera dell'orientamento dall'ingresso alla laurea ai primi approcci con il mondo del lavoro. Il valore sicuramente è portare all'interno del nostro Ateneo, nella nostra realtà, manager che operano con una visione internazionale. Sicuramente oggi lo special guest rappresenta uno dei marchi più importanti nel mondo del commercio elettronico, molto vicino soprattutto alle nuove generazioni, agli studenti che abbiamo nelle nostre aule. Il valore è doppio perché è una giornata per noi ormai consolidata in questi sei anni e anche di orientamento. Quindi un modo per far vedere come il nostro Ateneo fa realmente il ponte con il mercato del lavoro attraverso dirette e uniche testimonianze.